Laura e Demi, due donne sole che stanno per incrociare i loro destini. E così anche i destini delle loro piccole figlie si incroceranno, Susie e Sarah Jane. Ha la cannazione molto chiara. Sarah ha preso tutto da suo padre. Sarah però non vuole accettare il colore della pelle di sua madre. Perché devi essere tu la mia mamma? Perché? È peccato vergognarsi di quello che si è. Il signore avrà avuto le sue ragioni per fare alcuni di noi neri e altri farli bianchi. Per i grandi classici di Rete 4. Lo specchio della vita. Mercoledì alle 20 e 30 su Rete 4. Duplo. Mille combinazioni per crescere. Di Vella, passione mediterranea. L'amore, il lavoro, la salute sono problemi insormontabili. Chiama all'144-114-370. Se con il sale la pressione sale, 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 con un nuovo sal, scende, scende, scende. Nuovo sal. Va tutto in salute. Il meglio di sale e pepe di marzo. Grandi piatti a sorpresa. Paste ripiene, delizie di mare, dolcezze al cucchiaio. E con sale e pepe un regalo raffinato. Una paletta antigraffio con il manico di legno. Sale e pepe è in edicola. Ecco a voi Gleteo Spin. Gleteo Spin, Gleteo Spin e odora per 30 giorni. Inserite la ricana e un fresco profumo si diffonderà per tutto un mese. Gleteo Spin. Un soffio d'aria. L'avete comprata questa? Sì! E tu? Finalmente, la Costituzione Italiana fumetti inventi i fascicoli settimanali. Da oggi, in edicola, perché nessuno dimentichi. È in edicola giustizia giusta. Macchie difficili? Un mino bianco smacchia facile. Prima di lavare, usalo direttamente sulle macchie. La sua formula attiva, con sapone di marsiglia, durante il lavaggio, le elimina completamente. È facile, vero? Macchie difficili? Omino Bianco smacchia facile. Garantisce Omino Bianco. E da oggi, con tutti i prodotti della linea Omino Bianco, in regalo un mondo di spugne. Bastano pochi punti. È un regalo di Omino Bianco. Mi aiuti a dirlo come quando ero bambina? Non hai bisogno di chiedermelo? Volevo dirti che sei veramente un amico. Ma quando penso che a te ne frega niente di me, allora non mi sento più tanto buono. Dammi quella roba. Dove vai? Ad avvertire tua madre? Se lo fai mi ammazzo. Erbì, ma se volevo sposarlo. Mi sa che questa volta ci dobbiamo dire di sì. Che c'è Paolo Sirenti? Come una mamma. La seconda parte stasera alle 20 e 30 su Rete4. Da Molino Bianco, Desideri 94. I nuovi grandi regali. Pese è in forma. La bilancia a doppia scala con schede nutrizionali. Per dosare le calorie e pesare gli alimenti. Il nuovo fornetto. Dal design esclusivo. Per scaldare le brioche velocemente. E da oggi anche per tostare il pane. Cappuccino. Il sistema più veloce per preparare la colazione. Ed avere il caffè e il cappuccino. Cremoso come al bar. Desideri 94. Averli è più facile perché per la prima volta trovi i punti su tutti i prodotti. E Mulino Bianco ha tutti i prodotti che vuoi. Raffreddore? Naso chiuso? Yodosan Contac è fervescente rapido contro il raffreddore. I spray per liberare il naso a lungo. È un medicinale che può indurre sonolenza e evitare l'uso prolungato. Lascia fare a Yodosan Contac. La tetarella fisiologica Mr. Baby Culla rispetto alla normale Mr. Baby è più piccola. Più morbida. Proprio come il seno della mamma. Tettarella Mr. Baby Culla. Ideale da 0 a 6 mesi. È piccola e morbida. Come il seno della mamma. Mr. Baby. In farmacia.